Presidente, almeno di imprevisti, entro il 2024 Teramo avrà la casa dello studente. Un grande obiettivo, stiamo lavorando molto per garantire il diritto allo studio dei nostri studenti universitari, tanto più in questo periodo di emergenza economica che rischia di impoverire anche il tessuto accademico. Invece le università e la ricerca sono un punto di forza per i nostri giovani e per l'economia del futuro. Per garantire la casa dello studente a Teramo, aver garantito il pagamento delle borse di studio per tutti gli studenti universitari in graduatoria è la prima volta che accade da quando esiste la Regione ed è un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi e tutta l'intera amministrazione che ha lavorato per questo. Parlo di intera amministrazione perché per reperire fondi c'è stato un lavoro importante del Consiglio regionale che ha votato le leggi con questi indirizzi, dell'Aggiunta che ha reperito i fondi nell'ambito delle varie economie e dei diversi fondi disponibili. Quindi abbiamo lavorato seriamente per arrivare a questo che è un obiettivo storico e la posa della prima pietra che ristruttura questo edificio storico che fa parte dell'identità del paesaggio urbano consolidato della città di Teramo è davvero un po' un salto in avanti molto molto importante.